Marina Fiorendini, è arrivata una sconfitta per 5 a 1 contro l'Ancona, un'Aurora che nel primo tempo è stata molto in difficoltà, però nella ripresa abbiamo visto una squadra diversa, che si è compattata, ha saputo lottare ed ha saputo far vedere anche delle ottime cose da calcio piazzato, da considerare anche la prudezza di Giulia Mari che ha accorciato le distanze. Diciamo che abbiamo approcciato la partita in maniera un po' troppo spaisata, un po' troppo superficiale, tanto che ci siamo ripresi nel secondo tempo, siamo state molto più determinate, abbiamo cercato quantomeno di dimostrare che siamo molto di più e quindi abbiamo cercato di dare il meglio. La prossima partita sarà contro la Maceratese che è virtualmente al secondo posto, una partita che comunque per la classifica servirà, nonostante l'Aurora è fuori dai giochi, farà comunque la sua prestazione vendendo cara alla pelle. Certamente, contro la Maceratese è sempre una partita molto sentita per entrambe le squadre, quindi verrà fuori sicuramente una bellissima partita. Grazie mille.